Patabom, ossia come pastorizzare i tuorli per avere semi freddi, mousse o tiramisù perfetti e sicuri In un pentolino metti lo zucchero e l'acqua e porta a bollore a fiamma dolce Per questa ricetta è indispensabile il termometro da cucina Quindi senza mescolare con il cucchiaio ma solo muovendo il pentolino porta lo sciroppo a 121 gradi Misura la temperatura in più punti oppure mescolando per avere la reale temperatura di tutto lo sciroppo In una terrina già in precedenza deve aver messo i tuorli a temperatura ambiente Appena lo sciroppo raggiunge la temperatura di 121 gradi bersalo a filo sui tuorli mescolando con le fruste elettriche Continua a lavorare fino ad avere un composto chiaro e spumoso Mentre lavori con le fruste elettriche la temperatura del composto si abbasserà E ti permetterà di ottenere una spuma molto densa Mentre lavori con le fruste elettriche la temperatura del composto si abbasserà La consistenza deve essere questa. Et voilà! Grazie a tutti!